Salve a tutti e benvenuti su MySummerCar Oggi saremo ancora con la GNSS da 1000 CV Questo piccolo motociclo o motorino da 80 di cilindrata E due tempi come vedete Anche se ne ha prima 10 CV e 1000 con la mod Andremo prima a fare un mega salto dalla rampa E poi faremo una gara Drag Race con Dragster Una gara Dragster Con delle muscle car da 900 CV Quindi noi le battiamo Partiamo già adesso Enter driving mode Vediamo che partenza facciamo da qua Fino in autostrada Per fare tutti quei salti Vediamo Vabbè c'è pure la polizia Lasciamolo stare qui Ah non fa niente Venga mi metto a fermare qui Veramente siamo in regola Se siamo sotto i 45 km orari Perché mo il limite Che puoi guidare questo Motociclo su strada 45 km orari Qua arriviamo a 90 Vediamo se riusciamo Ma quando noi otteniamo la trazione integrale Vediamo se riusciamo direttamente Dalla per me Ma pensa che ci riesco Pronti penso a via Oddio ci siamo Siamo riusciti Eh Deve proprio la sbattere Eccoci qua Siamo rispondendo alla chiesa Vediamo se ci stanno anche stavolta la polizia Che penso di no Eh Sono l'altro Macchina verde Non è per la salita dritta Dritto Eccoci qua Ma posso Ma devo salire là sopra Dai Eccoci qua Siamo arrivati Adesso ci siamo ben posizionati qua Regoliamoci per bene Prende per tenza Via Ah Avendo poco sort Vabbè Però c'è il mio patto Vedete che attrazione integrale qua Si fanno certe sgommate Con queste cose Guardate che sgommate Da non finire Vediamo se riesco A partire dalla salita Vediamo Partiamo da qua Io penso che ci riesco Oh no Sgomma parecchia Guardate come sgomma Fanno andarsi questa cosa Guardate qua Non ci credi Con questa potenza Che sgommate Per la miseria Doppia linea Perché Vabbè Bella attrazione integrale Che abbiamo qua Vediamo se ce la facciamo No Sembra Finire Sbannata Ma tagliamoci questa cosa No 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 Qui mi si brilla No 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 2 3 4 4 5 6 8 8 8 9 eccoci qua senza casco stavolta facciamo più visibilità però potresti che moriamo accecato senza casco si muove più facilmente prima colpa vabbè questo è migliore che sono riuscito a fare un bel salto direi proprio un bel salto cioè sono arrivato fino a qua fuori veramente nell'acqua ho viaggiato parecchio ma veramente parecchio quel genere vabbè sono nel lago vediamo dove sono se riesco ad uscire vedi qua vabbè non si riesce a vedere non tengono clip altre cose quindi riproviamo a fare altri salti anche questa volta è venuto un poco sotto no 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 vabbè no di con l'atterraggio la sembra una sorta soccaduta no stavo quasi atterrando bene ma non c'erano mai arrivati a modicolotto saprò di me si 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 no addosto all'albero poteva andare benissimo dritto all'albero invece non addosto all'albero si si all'albero 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 benissimo benissimo questo è l'ultimo tentativo basta che lo vabbiamo ma vediamo fino a quando riusciamo a viaggiare I'm just co-hosting sto giusto viaggiando in pollo ecco siamo fermati nel lago massima velocità massimo acceleratore proprio volando volando e tuffandoci nel lago adesso drag strip drag race oh assalto pure qua vediamo vediamo viaggiamo così in autostrada vero questa è la postura perfetta per essere in autostrada ci siamo strusciati proprio contro l'asfalto vediamo qua vediamo questo comunque questo è frame eh? si eccoci qua ho il drag strip la pista da da gara di accelerazione vado a aspettare che arriva qualcuno ah sta arrivando qualcuno e questa di sicuro la batte 100% sicuro sta arrivando un altro la dietro ecco le due macchine da dragster quelle due là tengono 900 cavalli io ne tengo 1000 qua quindi le batterò tutte queste che vedete le batto dove si parte da qua? questa fa la sgommata ah devi ritornare nuovo sulla linea dietro eh ma ci metto per chiedere nooo sbagliate vabbè comunque ora non riceverò la penalità andiamo a vedere ah no non mi è uscito proprio ah no l'ho fatto bene basta devo ripetere basta io che passa avanti devo caraggiare in questo qua guardate guardate che macchina passi avanti grazie oh dove si è finito qua? vabbè questo è successo è finita da dire agli alberi non me lo sarei spettato questa cosa di finire poi sulla tua strada qua comunque devo ripetere questa gara da dragster ci devo ritornare allora io mi sono appostato qua e aspetto che arrivano la macchina dragster appena vedo una macchina da dragster mi avvio e vado a gareggiare con lui questa è questa è Skoda Toyota carina e stanno arrivando le due muscle car guardate che casino che fanno guardate che muscle car che casino che fanno Circular Connexion andiamo mi avvio vado a gareggiare con loro ecco qua vediamo vediamo che partenze che fanno questi due la Skoda è la Toyota carina bene ma dobbiamo partire noi andiamo 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 no no che fai qua di 3 aspetti ecco eeeh sta comando un casino ha voglia togliere di mezzo eeeh ma dietro c'è pure quella macchina verde che uso al passato che mi passa l'opelastra no questo non deve stare qua ecco deve scomparire bravo così devo gareggiare io con questo vediamo posso? vediamo se mi va se posso farlo si mi raccomando ok ok perfetto prendo partenza devo fare una partenza migliore però vabbè questo è e ho vinto ho vinto ho vinto quella che abbiamo andiamo a vedere i risultati ecco qua ecco qua Ivan Voza questo è il mio nome John Sess primo posto ok adesso andiamo a fare con quell'altro ok 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 devo andare andiamo con questo ecco che vabbè non soccorre io lo batto con questa cosa dove vanno dove vanno dove vanno dove vanno vabbè aspettiamo non soccorreggio queste qua ok ah no sembra queste davanti vanno buttaci ecco qua ok garaggiamo ok 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 l'ho battuta l'ho battuta l'ho battuta l'ho battuta l'ho battuta si sono più veloce io come al solito si mille cavalli della mia giornezza sempre vediamo i risultati vediamo i risultati adesso apparo ok vediamo questo è nei miei tempi vediamo i risultati sempre il primo 265 km orari quindi ci arriva quasi a 300 come ho detto io ho ragione il giorno del sesto del 1987 anche adesso andiamo a salutarci guarda lì vediamo un po' di partenza e poi da voi ci salutiamo ok ma devono partire queste qua calmiamoci qua guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì mi piace di più questa qua guarda lì vediamo che portenza che fanno vediamo vediamo guarda voi ci salutiamo è veloce questo qua comunque il più veloce sono sempre io con la mia giannazista da 1000 cavalli quasi 300 km orari quindi se per questo video vi aiuto grazie a questo video da 0 a 100 in circa 2 secondi ci vediamo al prossimo video ciao ciao